Allora buongiorno, siamo qui ancora dallo Spaces di Roma, ci troviamo nel quartiere dell'Eur per questa seconda giornata di Orienta Sud, il Salone delle Opportunità. Voglio salutare tutti i ragazzi che ieri hanno partecipato, i ragazzi e le ragazze che ci hanno seguito da oltre 94 città del Sud Italia. Ci presenteremo invece il progetto Erasmus, tanto amato dai giovani e ci saranno ovviamente tutte le opportunità anche di progettazione per la programmazione 2021-2027, il workshop e a cura dell'INAP. Alle ore 11 parleremo del digitale, quindi tutti i ragazzi smanettoni amanti del digitale, amanti dell'informatica, amanti del web, hanno la possibilità alle ore 11 di conoscere quali sono le competenze richieste dalle imprese in relazione proprio alle materie del digitale. Ricordo che potete anche interagire durante le dirette in questo canale live facendo domande in chat ai relatori, quindi approfittate di questi momenti per fare domande, per chiarirvi dubbi e quindi per chiedere, chiedere, chiedere. Alle ore 16.30 un altro appuntamento che mi vede coinvolto, terrò insieme alla collega Maria Diacco un intervento legato alle competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro, ovvero che cosa le aziende vi chiederanno in termini di abilità quando vorranno assumervi.